In questa sedicesima domenica del tempo ordinario, ma siamo in un periodo sostanzialmente di vacanze, di maggiore libertà, di riposo, si può imparare una delle regole d'oro dell'essere cristiani e la formulerei così, è dando che si riceve. Del resto San Paolo in una delle sue lettere porta delle parole che Gesù ha pronunciato ma che non troviamo nel Vangelo. C'è più gioia nel dare che nel ricevere perché Dio ama chi dona con gioia. Ecco vale anche per noi in questi giorni di vacanza che ci stiamo godendo di riposo, anche gli Apostoli di Gesù desideravano ardentemente stare con Lui, avere degli attimi di intimità con Lui, poterne godere della sua compagnia. Gesù ama questi momenti di intimità con i dodici perché può dare realmente quello che gli altri forse non capirebbero nel dimostrare tutta la bellezza del suo annuncio e del suo messaggio di salvezza. Del resto Gesù è Gesù stesso che vuole questi momenti di intimità. Venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco con me. Ma per Gesù e per i suoi non c'è tregua perché la gente li insegue, ha bisogno di sentirli, ha bisogno di stare in loro compagnia, hanno ammalati da curare, hanno ferite nel cuore da poter lenire. Molti li videro e capirono dove volevano andare a ritirarsi e li precedettero. Vacanze apostoliche, insomma, belle finite. E a questa insistenza della gente, affaticate da dolori e da sofferenze, c'è anche il desiderio di stare appunto con Gesù. Ma Lui che cosa fa? Gesù di fronte a questo desiderio di stare con Lui, dice la pagina del Vangelo, si commosse per loro perché erano pecore senza pastore. Non avevano chi seguire, non avevano una parola confortante e solida a cui rifarsi. E che cosa fa Gesù? Si mise ad insegnare. Entra nel pieghe della loro vita e dice che cosa è la vita. Del resto anche noi come i discepoli possiamo dire quando Gesù a un certo punto dite volete andarvene anche voi? Visto che le mie parole sono troppo dure o sono troppo pesanti, volete andarvene anche voi? E i discepoli rispondono ma dove dobbiamo andare? Dove possiamo andare? Perché tu solo hai parole che danno senso alla vita.